Siracusa viola l'obbligo della sorveglianza speciale, arrestato dai carabinieri. Nella serata scorsa i carabinieri della stazione di Casibri, impegnati in uno specifico e imbinato servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione alle persone sottoposte a misure coercitive della libertà personale, erano tratti in arresto per violazione degli obbligo della sorveglianza speciale. Sebastiano Ranno, 32 anni di origine sravernate, ma di adozione siracusana, con precedenti di polizia. Nello specifico è l'Aranno, contravvenendo alla prescrizione imposta dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Siracusa e presentazione alla polizia giudiziaria, a cui, come detto in precedenza, è sottoposto, grazie a un'acuta e immediata attività informativa eseguita dai carabinieri di Casibri, veniva sorpreso e bloccato dai militari operanti, mentre si girava come se nulla fosse nelle zone del comune di Floridia. L'arrestato veniva pertanto accompagnato presso il locale della stazione Carabinieri, ultimate le formalità di rito sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla autorità giudiziaria competente.